La parte di sera è stata inaugurata la sede di un movimento politico da non molto tempo all'opera nella nostra città. Ora che le elezioni comunali si stanno piano piano avvicinando, sentiamo il punto di vista di Saronno protagonista. La corsa alle elezioni comunali sta entrando nel vivo. A maggio si decide chi sarà il prossimo sindaco della città e nel panorama politico saronnese si alza il sipario sulla lista civica Saronno protagonista. Cambiamo scena. Saronno protagonista in realtà nasce da circa un anno. Inizialmente come un gruppo di professionisti, imprenditori, commercianti che hanno deciso di ritrovarsi per discutere delle problematiche legate alla nostra città e quindi alle attività che sono connesse alla città. Una forza che martedì sera alla presentazione della sede si dichiara super partes e fuori dagli schemi. Saranno protagonista come slogan a proprio cambiamo scena, cioè cambiamo non soltanto le classiche forze politiche ma cambiamo il modo di fare politica. Abbiamo deciso di essere una forza trasversale quindi non si parla di alleanze per ora con nessuno. Alcuni di noi hanno un passato politico, anche un lungo passato politico, altri che sono la maggior parte non hanno un passato politico e questo penso che sia la grande differenza e la grande forza della nostra lista, del nostro gruppo. Un programma basato sul concetto di Smart City con l'obiettivo di conquistare nel breve periodo la popolazione di Saronno. Malgrado il gruppo si sia così proposto da poco tempo, di fatto siamo già molto conosciuti in città e non solo, per cui siamo molto contenti anche di questo. La gente ha recepito un po' quella che è la nostra idea, il nostro messaggio.